L'edizione 2011 credo che rimarrà negli annali, uno per la partecipazione, due per la qualità dei dibattiti politici e tre, credo, per la presenza di tantissimi volontari a lavorare. Questo è un segnale che dovremmo recepire anche con più attenzione da parte del partito stesso. Siamo ancora forti nonostante la nostra uscita al Parlamento, ma questo non vuol dire che non siamo tra la gente. Come dice la nostra maglietta di quest'anno, il popolo è la nostra casa e la nostra casa sarà quella dei diritti, dei servizi e soprattutto di essere sempre vicini ai più deboli. Con questa edizione abbiamo dato un bel segnale, il Circo di Ripietra Santa è fiero di questa festa e ringrazio a tutti i compagni e tutti i volontari che hanno assistito e hanno soprattutto lavorato a questa festa.